La tutela dell'agrobiodiversità, le novità della programmazione dello sviluppo rurale e la collaborazione della Regione Toscana con 12 scuole a indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale. Sono questi i temi principali di un convegno sull'agrobiodiversità in programma domani mattina a Firenze, nella sede della Presidenza della Regione. Abbiamo trovato una grandissima disponibilità da parte dei Presidi e delle scuole di impegnarsi su un tema che per la Regione Toscana è un tema importante. Si tratta della biodiversità, dell'agrobiodiversità, della tutela del nostro ambiente e ne parliamo in un momento legato ai cambiamenti climatici, in un momento nel quale si cerca tutti una agricoltura di maggior qualità. Durante l'evento verranno presentati i progetti finanziati dalla Regione e realizzati in 12 istituti toscani. I lavori verranno poi presentati nella giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in programma il 20 maggio 2020. Tra questi progetti c'è anche quello della Banca del Seme, che si tiene nell'istituto omniconfrensivo Fanfani-Camaiti di Pieve Santo Stefano e che è già stato utilissimo dopo una calamità naturale. L'anno scorso, in occasione della devastazione che c'è stata in Trentino a seguito di calamità naturali, ci siamo fregiati di portare personalmente un sacchettino di semi di abete rosso, che sono la trasmissione genetica delle piante originarie che la natura in un moto di ribellione ha abbattuto. Insomma, i giovani di 12 istituti superiori toscani sono impegnati direttamente nella tutela dell'agrobiodiversità. Quindi questi ragazzi con grandissimo entusiasmo delle scuole faranno un'attività di animazione per preparare l'iniziativa del 20 maggio dell'anno prossimo e per noi è un elemento sicuramente importante perché questi tipi di aspetti, se li facciamo, li svolgiamo con le scuole, con le scuole agrarie, secondo me queste domani sono le persone che sul nostro territorio, sulla regione toscana, dovranno portare avanti con grande forza, ma anche con grande competenza, un tema che noi riteniamo fondamentale. Grazie a tutti.